E' attivo il nuovo servizio telematico della Regione che consentirà a tutti gli utenti in possesso di Speed di prenotare in autonomia e direttamente da casa propria le prestazioni sanitarie in tutte le strutture del territorio abruzzese. Lo ha comunicato l'assessore della salute Nicoletta Verì, rimarcando come il nuovo servizio di Abruzzo Sanità Online vada ad arricchire il catalogo di quelli già disponibili sul portale. L'attivazione del nuovo coupon online è stata voluta dall'assessore nell'ambito del piano di potenziamento dell'infrastrutturazione tecnologica della sanità regionale con la fattiva cooperazione tra i Dipartimenti Sanità e Risorse della Regione e l'ARIC. Il servizio è raggiungibile come tutti gli altri sempre nel portale di Abruzzo Sanità Online e può essere raggiunto da tutti i dispositivi fissi e mobili. Inizialmente in questa prima fase sarà possibile prenotare, muniti di prescrizione medica, solo le 191 prestazioni sanitarie soggette al monitoraggio delle liste di attesa e inserite nel piano operativo regionale.